Un importante corso di formazione per tutti gli operatori e collaboratori è stato organizzato in questi giorni dal patronato Inca CGL provinciale di Pescara per approfondire tutte le novità previdenziali dopo la legge di bilancio 2018. Si è parlato di nuovi requisiti pensionistici, di APE, l'anticipo pensionistico, di lavoratori precoci per arrivare alle pensioni d'oro e alla flat tax. Un dibattito nazionale che sta suscitando nel mondo del lavoro dipendente una domanda crescente di informazione verso i patronati con l'esigenza di affinare gli strumenti consulenziali per fornire le risposte più adeguate all'utenza. Il senso di questo corso di formazione sulla previdenza privata è quello innanzitutto di qualificare la preparazione degli addetti del patronato Inca CGL a livello provinciale su tematiche che sono oggi di estrema attualità perché soprattutto con riferimento alle anticipazioni che ci sono circa i programmi del governo di superamento della legge Fornero con la previsione di quota 100 per quello che riguarda la pensione di vecchiaia o di quota 41 per ciò che riguarda l'anzianità sta suscitando molto interesse e partecipazione da parte soprattutto dei lavoratori e noi abbiamo bisogno di affinare sempre più e sempre meglio gli strumenti di consulenza per dare risposte giuste alle aspettative dei nostri assistiti e dei lavoratori.